Treno ferrovie dello Stato a Agropoli-Napoli delle 8.47, in centinaia in piedi, un caldo terribile, donne e bambini che si sentono male. E' una vergogna inaccettabile per un paese civile, il governo intervenga sullo Stato delle Ferrovie. Lo scrive su Facebook Antonio Bassolino, ex governatore della Campania, il quale ieri mattina a bordo del regionale 1527 non ha potuto fare a meno di commentare e denunciare sul social network lo Stato dei treni che collegano il Cilento. Tornando da Agropoli, una signora mi ha chiesto di fare qualcosa, racconta Bassolino, che bene ha pensato di poter fare l'unica cosa possibile in quel momento. Un posto durissimo in cui descrivere la situazione nel treno regionale delle 8 che collega i comuni del Cilento con Napoli e Salerno. Una ragazzina si è sentita male, scrive l'ex governatore, e una coetanea straniera ha tirato fuori una bottiglietta d'acqua che di mano in mano è arrivata a lei nella calca del vagone. Vagoni stracolmi, aria condizionata fuori uso e gente costretta persino a viaggiare nei bagni e a ricavarsi un angolino dove trascorrere un viaggio lento e debilitante. Scene intollerabili, riferisce Bassolino, che poco dopo il post su Facebook in un tweet cita anche del Rio sollecitandolo a intervenire, perché, spiega Bassolino, è uno dei ministri più attento al Sud. Secondo l'ex governatore della Campania c'è un problema di qualità e di quantità dei treni, ce ne vorrebbero di più e ci vorrebbero più investimenti sulle linee ferrate. Ma l'investimento delle ferrovie dello Stato nel Sud oltre Salerno è, commenta Bassolino, un'inerzia e questo è intollerabile.